Cari amiche e cari amici, faccio questo video pur sapendo di essere sotto molto aspetti impopolare, tanto per cambiare. Comunque è sempre uno stimolo di riflessione, il decimotoro in fondo è questo, serve molto a riflettere insieme. Io ho avuto una nonna che era semi-analfabeta, è morta tantissimo tempo fa, 40 anni fa. Era una contadina, aveva la quinta elementare presa nel periodo della guerra. Non mi sono mai sentito superiore a mia nonna, mai. Nonostante già da molto giovane io avevo una, ottima cultura. Lei ha tirato su sei figli, uno meglio dell'altro. Quindi per me è stata una donna solamente da ammirare. E mai ha avuto un minimo di senso di superiorità per la mia cultura rispetto a lei. Perché fin troppe cose aveva da insegnarmi. E ancora ripensandoci, i suoi insegnamenti sono validi tuttora. Perché vi sto facendo questo discorso? Adesso vi dirò una cosa che sembra non entrarci assolutamente nulla con quanto vi ho detto finora, ma abbiate la pazienza di seguirmi fino alla fine. Sono uscito a fare una passeggiata con un amico, tutte e due senza mascherina. E, incredibilmente, non abbiamo trovato una persona senza mascherina. Spesso se ne trovavano fino a qualche giorno fa. Pochi, ma se ne trovavano. Oggi veramente nessuno. Questa cosa mi ha colpito. E mi sono messo la mascherina. Perché le persone che incrociavo erano spaventate. In genere, fino a qualche giorno fa, indossavo la mascherina coprendomi bene solamente quando incrociavo persone vecchie. Perché ho visto che si spaventano. Eh, si spaventano. E adesso ho notato che anche i giovanissimi oggi erano tutti coperti, ma proprio coperti fino agli occhiali. Allora ho detto a questo mio amico facciamo le strade laterali in modo che possiamo stare senza mascherina, ma se incrociamo qualcuno indossiamo la mascherina. Perché non è bello spaventare le persone. Cosa c'entra questo con mia nonna? Adesso vi spiego. Io non mi sento superiore a queste persone che indossano la mascherina. Le sento un po' come disabili. Sono state terrorizzate. Hanno subito tutte le suggestioni paranoiche dei vari telegiornali di Stato, dei giornali, e sono terrorizzate. E quindi perché dovrei sentirmi superiore? E ho sentito che troppi siti alternativi si riferiscono a queste persone chiamandoli subumani, non pensanti, italioti. Non va bene per me questa cosa. Io li vedo come persone terrorizzate. e come mai mi sono sentito superiore a mia nonna? Mai mi sentirei superiore a un disabile. E così non mi sento superiore a queste persone. E mai le chiamerei italiote, subumane, non pensanti, idiote o cose del genere. Nella piena coscienza che sta a chi è più informato, a chi è più consapevole, un po' alla volta, se capita l'occasione, di cercare di tranquillizzare queste persone. E dunque il messaggio è questo. È stupido chi si sente superiore. È stupido chiamarli subumani, ma secondo la mia prospettiva vedo semplicemente degli esseri umani terrorizzati, spaventati e che si portano appresso questo terrore e che chissà per quanto altro tempo saranno segnate da questo terrore. Tutto qui. Bene, cari amiche e cari amici, un abbraccio forte a tutti, se volete un pollice su e se vi va anche un sostegno al canale. Un cari abbraccio a tutti. Marco Cosmo è stato un po' di